Ciao a tutti oggi parliamo della Nikon FM. Questo fu il primo modello compatto prodotto da Nikon, venne introdotta sul mercato nel 1977 e poi sostituita dalla Nikon FM2 nel 1983. Si tratta di una macchina fotografica molto semplice con tempi di scatto meccanici in modo tale che potesse funzionare anche senza batterie e permetteva però di avere delle prestazioni che fossero adatte ai professionisti che non dovevano rischiare di rimanere magari senza la macchina in caso di batterie scariche o problemi elettrici. Infatti a quell'epoca si preferivano macchine con tempi meccanici che assicuravano di portare a casa il lavoro in ogni caso. La macchina ha la possibilità di scattare soltanto in manuale, i tempi di scatto vengono selezionati dalla parte superiore. Qua sia la ghiera dei tempi di scatto abbiamo la ghiera con la sensibilità ISO che va da 25 a 3400 che va selezionata manualmente, non c'è il codice DX. Qua abbiamo la leva di avanzamento che funge anche da tasto di accensione, infatti quando viene aperta si vede il puntino rosso che indica che l'esposimetro è acceso. Qua abbiamo il tasto di scatto con questa ghiera per lo sblocco del tasto sul puntino bianco. Se il bianco coincide con quello sotto vuol dire che può scattare, se invece coincide con lo rosso il tasto di scatto è bloccato. La prima versione si distingue dalla seconda perché questa ghiera è fatta zigrinata e a mio parere è molto più bella questa della prima versione che quella della seconda versione che poi è liscia. Infatti poi nelle versioni successive anche nella FM2 non ci sarà più questo tasto di blocco ma il tasto di scatto verrà bloccato quando la leva di avanzamento sarà riposta. Infatti bisognerà per forza aprire la leva per scattare, invece in questo caso la leva va aperta solo per attivare l'esposimetro. Da questa parte avviene soltanto il nottolino di riavvolgimento con la solita levetta che si alza e per sbloccare va mossa questa levetta portata verso di voi per alzare il rullino. Il mirino con l'ugolare tondo come classico di Nikon si legge molto bene sulla sinistra sono riportati i tempi di scatto e sulla destra ci sono tre led che indicano se l'esposizione è giusta se ha acceso solo il led centrale. Poi il led inferiore e il led superiore indicano se è sovraesposta e sottoesposta. Se si accende sia quello centrale che quello superiore vuol dire che la foto è esposta da un terzo in più a uno stop in più. Se invece è acceso solo quello superiore vuol dire che è oltre uno stop di sovraesposizione e la stessa cosa vale per quello inferiore. L'esposimetro funziona con due batterie LR44 che vanno inserite in basso, semplici batterie classiche che vengono utilizzate in questa tipologia di macchina. Nella parte inferiore troviamo anche il perno che va premuto per sbloccare il rullino e riavvolgerlo, l'aggancio per il motore e i contatti sempre per il motore e ovviamente la vite per il tapile. Nella parte anteriore troviamo la leva per l'autoscatto di circa 10 secondi e poi troviamo un'altra leva qua per il controllo dell'esposizione per chiudere il diaframma. Da questo lato troviamo il tasto per sganciare l'obiettivo, il connettore per il flash e inoltre c'è la possibilità di sbloccare questo, premendo questo pulsantino si alza la levetta qua e permette l'accoppiamento con ottiche pre-i. Infatti a mio parere la Nikon FM è da preferire alla FM2 che invece è molto più blasonata e ricercata e ovviamente a prezzi anche più alti. Infatti le differenze si limitano soltanto ai maggiori tempi di scatto, questa arriva a un millesimo, l'altra arriva a un quattromillesimo, comunque tempi di scatto che vengono utilizzati poco, a meno che non si debbano utilizzare per scopi particolari, ma insomma queste tipologie di macchine non vengono utilizzate per cose molto particolari. Il tempo di sincronizzazione flash che qua è un centoventicinquesimo invece nell'altra è un duecentesimo e un duecentocinquantesimo nella versione N. Questa macchina offre però il vantaggio di poter utilizzare tutte le ottiche pre-i che non possono essere utilizzate normalmente ma bisogna disinnescare quella levetta e vanno utilizzate con il diaframma chiuso. Infatti la possibilità di innestare le ottiche pre-i poi non sarà più presente nella versione FM2 ma come nella FE2 e poi nella FM3. Questa macchina la si trova a prezzi più bassi rispetto alla versione 2, si trova attorno ai 150-200 euro che è un prezzo buono per questa tipologia di macchina che è davvero molto robusta e permette di scattare praticamente all'infinito utilizzando delle batterie che durano davvero molto. Come mi hanno detto possono essere utilizzate tutte le tipologie di ottiche anche quelle AI che in questo caso potranno essere accoppiate anche con la lettura del diaframma quindi si può lavorare sempre a diaframma aperto per mettere a fuoco e per inquadrare e poi il diaframma si chiuderà soltanto per lo scatto. Questa macchina è davvero facile da utilizzare, è adatta a mio parere anche ai neofiti che vogliono approcciarsi alla fotografia analogica comunque lavorando in manuale capendo anche il funzionamento. L'esposimetro è davvero comodo da leggere infatti a differenza di molte altre macchine che usano l'ago del galvanometro per leggere esposizione questa utilizza dei led che sono molto più chiari e facili da leggere. Adesso vi lascio alcune fotografie di esempio scattate con questa macchina e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.